Solo allarmismo, nessuna interruzione in corso per il servizio di radioterapia presso l'ospedale civile di Pescara, spiega il manager dell'ASL, Armando Mancini. La questione è quella della notizia dell'interruzione delle prestazioni nella fascia notturna 2024, come dichiarato dal primario Marco D'Alessandro, preoccupato per le lunghe liste d'attesa alle quali dovrebbero attenersi i pazienti in caso di eliminazione del servizio in questione. Nei fatti invece il blocco delle prenotazioni è stato solo a scopo cautelativo fino al reperimento dei fondi necessari alla prosecuzione delle terapie. In realtà non è interrotto niente, o meglio, finora sta funzionando, fino a venerdì 23 la seduta serale aggiuntiva che viene pagata con una quota a parte viene effettuata. Non si prendono prenotazioni dopo venerdì 23, perché non ci sono finora i fondi, fondi che stiamo cercando di trovare in modo da far sì che tutto prosegua come è sempre stato qui. Un iter già in corso, spiega Mancini, attivato da mesi nella consapevolezza di dover spostare i fondi ad un servizio straordinario, pensato e creato proprio per sopperire alle liste d'attesa. Si fanno 65 sedute al giorno, 50 avvengono durante l'arco della giornata e 15 in questo turno aggiuntivo. Quindi si tratta di un numero considerevole, ma è pur sempre meno di un terzo. Le stanno attualmente facendo, quindi non è che non è sospeso nulla. Sono sospese le prenotazioni e le hanno sospese in misura prudenziale in attesa che si trovino i fondi. I fondi li troveremo e sicuramente non sarà interrotto nessun servizio.